Musica Musica Bene ragazzi sono Daryl e sono tornato con un nuovo gameplay e oggi sono qui a casa di Frax perchè lui è sceso un attimo per fare una cosa e sto giocando con la sua squadra buggatissima, guardate che roba a parte i studi che stanno fuori ruolo perchè non ha forse ancora capito bene come funziona a Lam e Toti, a Obama e Young e Nero c'è delle bestie comunque a bando alle cianci cerchiamo subito la partita chissà se troverà subito tutto quanto ci mette sempre le ore a cercare una partita del merda forse l'ha trovata, attenzione che palle, perchè abbandonano prima per quale motivo abbandonate olè, forse l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo trovato attenzione oh porca droga questo pure non c'è una squadra maluccia vabbè c'è tutto il Manchester praticamente dimmi te che senso ha giocare ad ultime team e praticamente usare solo il Manchester comunque dai un po' cercando di incestare questa partita io non ho mai giocato su next gen a sto gioco quindi invece trovo male non male di più perchè da next gen a cosa cambia una cifra porca droga questo parte subito così va bello ma tu vai c'è Gozze oddio oddio schweinsteiger 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 se ne va schweinsteiger che bestia Aubameyang Aubameyang Kagawa fa molti sporsi in bagno Kagawa vabbè basta queste battute di merda c'è Müller che va a chiudere non c'è nessuno al centro mette fuori Dante la divina commedia attenzione Lewandowski ci prova a partire con Marco Reus oh bella palla 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 peccato che Lewandowski è il più lento qua a mezzo oh Hernandez fuori dai così alaba come dice Frax abala abala e adesso vi faccio vedere un altro che storpia il nome eccolo Lem mazza quant'è forte l'ham c'è l'ham toti penso sia qualcosa di incredibile fuori gioco mio grazie dai Lewandowski mandalo in porta a Reus il tiro lui è te lui è te Reus Marco Reus che gol 1-0 tutti a casa questo non mi dico già se ne va già quitta ole non ha quittato adesso tocca anche sperare che non quitta non capito oltretutto perché dopo il primo collo c'è anche che quitta incredibile ma regalo Reus è una bestia no perché ha fatto sto passaggio così vai l'ham fai vedere che sei toti mamma mia Dante che anticipo ragazzi no no cazzo l'ho già preparata la scivolata mi ha lanciato vabbè a niente la Fraxers squad deve andare alla vittoria dai così dai Mario Bozze oh parla per Lewandowski vattene in porta vattene in porta vattene in porta se non si mi d'ammazzo no abame young ma dai ma che cosa qui proprio è da musichetta è da musichetta wow 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 Lewandowski Schweinsteiger parla per Gozze ancora frasiggia bene con Schweinsteiger eh ma se la fa togliere Schweinste sovrannominato da me Schweinste Gozze manda dentro abame young lo vedi c'è c'è ma si ripera davvero dai perché no questo potesse comunque finisce il primo tempo siamo in vantaggio e così deve finire eccoci con il secondo tempo se lui adesso si sbriga a battere è passato tipo sono passati tipo tre minuti d'orologio prima che lui decidesse di giocare perché sta un po' rosicando che sta perdendo perché ha detto si è presentato oh io sono troppo figo cioè io ho tutto il manchester poi ha vista la squadra mia e ce se è un attimo sei un attimo ridimensionato ha detto eh qua tocca e quindi ha rosicato perché non si aspettava fuori gioco no si si Schweinsteiger mamma mia devo far tirare lontano con Schweinsteiger oddio ancora e mezzo no forse mi devo prendere l'angolo era meglio Aubameyang prova il tiro Cesar Prates è stata deviata è stata deviata no come no questo è l'angolo raga Dante lo segue nel mezzo del cammino della partita oddio mamma mia Dante che entrata ragazzi vai Lewandowski Aubameyang mamma mia Aubameyang però fai proprio orate oh esci dai Enoier dentro per gozze vedi Lewandowski il tiro no questa è una bella azione dovevo segnare c'era c'era ragazzi vai lam Royce palo c'è Lewandowski e c'è il gol bam 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 gol di Hummels 2 a 0 e il match stai riuniti soccombe e calla lo prendo no lo chiudono in 3 oddio sta là mamma mia momento concitato Muller palla per Abameyang Lewandowski oh che cazzo ci riuscimo a piazza palla si è fatto male dai no così no oh no 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 adesso mamma mia che bestia mamma mia no ieri è troppo buggato come tutta sta squadra del resto vabbè ma hai detto che è la squadra mia si si l'ho detto che è la tua tranquilla e che c'è la squadra buggata e che è come se fosse un Ferrari per un neonato pala per Abameyang dentro per Lewandowski ti riuscite la finta ma lo sapevo che se ne accorgeva Abameyang cerca di entrare attenzione per il tiro a seguire ma che cazzo gozze oh che volo di De Gea eh ma che gozze c'è un vertigo gozze gozze frax gozze frax oh l'ham non paga più quanto cazzo è forte l'ham cioè è proprio troppo forte gioca da solo prima che ho visto fa tutta la squadra da solo philip l'ham guarda cioè ecco beh è forte l'ham poi c'è un sacco di passaggio eh l'ham l'ham è forte ma cosa hai i nomi degli aspoli di giocatore eh pensa un po' mi dovresti insegnare a te coglione dante dante va a chiudere no oh bella azione bella 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 giocata bravo non è vero fai gagare vabbè comunque è finita cerchiamo di non perdere perché almeno non sono come Xenic che porta solo sconfitte sul canale azione pala per Müller l'ham gozze levandoski gozze frax oh mio dio ozze ozze azze l'ham philip l'ham se ne va da solo tanto può giocare tranquillamente da solo uah uah fai toti è toti francesco toti mamma mia che tristezza che cazzo ma tu ti rendi conto c'è pure della gente che ti guarda queste battute tristi che fai oddio no no non potremmo andare più a gommo eh no 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 eh no eh oh noier mamma mia se c'avo bastava che c'avo desantis il portavo preso se prendo quella adesso rosico vai leva no e mo mi fai finire l'azione stronzo vabbè ragazzi la partita è finita e con la grandissima partecipazione di frax vi saluto vi dico di lasciare un like e condividere se vi è piaciuto dai granas è tutto bella ciao froci ciao 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 ciao